Sì, e là Andrea ha fatto una grandissima azione personale, dando la palla ha schiacciato un po' a terra, infatti l'ho presa col parastingo, però purtroppo sono quelle azioni che non puoi cercare scuse, l'ha di facoltà, l'ho presa un po' più alta, quindi l'ho mancata, l'ho presa di strisce. In generale mi è piaciuta molto la prestazione, perché comunque abbiamo giocato quasi tutta la partita a loro come da campo, loro ripeto come prima stavano lì di ripartenza, non hanno fatto, anche loro sono una buona squadra, indubbiamente, però credo abbiamo giocato solo noi, abbiamo avuto 6-7 palle goal e dovevamo sfruttarle meglio. No, sensazioni positive, credo al di là della zampata finale e qualche appoggio sbagliato non credo abbia fatto una partita malvagia, sono contento della mia prestazione, posso fare molto di più, giorno dopo giorno lavoriamo per metterci al meglio in condizione.